Ci siamo, possiamo... Io guardo il regista del film, ci intendiamo con uno sguardo, vogliamo cominciare. Buongiorno, benvenuta signor Alberti. Allora, ultima conferenza della giornata, film fuori concorso, l'Evangelo secondo Maria di Paolo Zucca. Sono presenti Paolo Zucca, regista, la signora Barbara Alberti, scrittrice e sceneggiatrice, Alessandro Gasman. In prima fila abbiamo Nicola Giuliano della Indigo Film, Margherita Amedei di Sky Cinema, Amedeo Pagani, La Luna, Nevina Satta della Sardegna Commission. Grazie. Allora, io esordisco con una frase che non è mia, ma del Presidente della Repubblica. Le donne sono libere di essere libere e credo che possa essere l'hashtag per iniziare questa conferenza stampa e do la palla subito a Paolo. Noi ieri ci siamo parlati così. Quanto ha influenzato, ecco, questo concetto, quanto è presente e quanto è contemporaneo in un film ambientato quasi duemila anni fa? Credo che sia molto contemporaneo perché... Devi spingere, ecco, grazie. Spingere il bottone. Credo che sia una frase che si addice al Vangelo secondo Maria perché la Maria di Nazareth che raccontiamo nel film partendo dal romanzo di Barbara è una Maria che sogna di conoscere il mondo e di diventare libera attraverso la conoscenza. Cioè, lei vuole imparare a leggere e a scrivere per essere libera, per emanciparsi. E il suo percorso è un percorso ostacoli perché chiaramente si scontra con chi non vuole che lei sia libera e questo è il tema fondamentale del film. Cioè, un desiderio di libertà è contrastato fortemente prima dai genitori e poi da un'entità anche superiore. Questo è un po' tesi, antitesi. Poi, per chi avrà il piacere di vedere il film, scoprirà che ci sarà una sintesi sulla quale preferirei non dare troppe informazioni. No, 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 assolutamente. E se no, come si dice, spoilererei il finale del film. No, ma poi c'è molto da dire anche tenendosi lontano da quella che è la trama. Quindi va benissimo così. Ricordo che mi piacerebbe molto che partecipasse la sala, però io volevo fare una domanda sia alla signora Alberti, che in realtà è una mia considerazione. Poi volevo fare una domanda ad Alessandro. È una mia considerazione. Ma il film è tratto da un suo romanzo del 1979, se non sbaglio. E la mia riflessione, guardando il film, è ma perché le cose forse non sono andate così? Mi sono domandato. Se vuole darmi così una sua considerazione, sulla mia considerazione. Ma noi non sappiamo come sono andate di cose, in verità. Perché ci affidiamo alle scritture che sono assolutamente arbitrarie e che però, per convenzione, sono... Ma io ho scritto questo libro per far sorridere la Madonna, soprattutto. Perché quando noi bambine di un tempo venivano allevate, educate, con questa figura che era una terribile icona dell'obbedienza. Una persona, una donna che era la regina dei cieli, ma non si sa che razza di regina fosse. In verità è una serva assoluta, perché è una ragazzina a cui per destino lei dovrà soltanto piangere. Io appunto volevo far sorridere la Madonna perché vedevo sempre queste immagini della Madonna piangente, di una Madonna che doveva partorire senza conoscere l'uomo, che doveva poi soffrire della morte di questa... Cioè era l'indicazione che mi aveva dato alle donne era piangere. Ecco, questa Madonna sorride, questa Madonna quando va in sinagoga a 13 anni comincia ad ascoltare le voci dei profeti e capisce che il mondo è più grande di Nazareth e capisce che esiste la conoscenza, impara moltissimo dei profeti e poi ci saranno delle storie che non so per quale questione come si chiama... Spoiler? Spoiler, sì, si usa questo termine. Chiamiamo l'anticipazione. Neanche che Ulisse tornerà a Itacaz, è proprio di più niente perché... Ecco, però qui effettivamente non è scontata la storia. Raccontiamo una storia che non è mai stata raccontata, che appunto della Madonna non si sa niente, si sa soltanto nei Vangeli, tranne un po' in Luca, è praticamente inesistente ed è sempre una figurina dell'obbedienza e del dolore. Credo che noi donne possiamo fare di meglio nella vita e anche la Madonna. Grazie. Allora, domanda per Alessandro e poi aspetto alzate di mano. Alessandro Gasman è Giuseppe nel film e questo è un film molto coraggioso, Alessandro. E' stata la mia prima espressione, quando l'ho vista, Madonna che coraggio. E il personaggio che reciti tu e che interpreti tu è veramente un Giuseppe al di fuori degli schemi. Sì, è fuori dagli schemi classici, ma è molto invece, come dire, terreno e riconoscibile anche nella società di oggi. E' un uomo che sa tanto perché ha viaggiato, ha incamerato informazioni, cultura. E' un uomo solo, vive in una società dove ha difficoltà a incontrare persone con le quali dialogare di altro che non sia appunto il peso della pecora o quanti pezzi di legno ci vogliono per costruire un tavolo. e con questo incontro, con questa giovane donna, questa ragazza così vogliosa di libertà e di conoscenza, trova un motivo per andare avanti nella sua vita e risolve la sua esistenza. E' un film coraggioso, come mi piacerebbe ce ne fossero di più. Spesso, anche nella vita, chi mi conosce cerco di andarmene un po' a cercare e in questo caso l'ho trovata già pronta e sia dal libro di Barbara che dal film di Paolo ho trovato veramente possibilità in questo senso molto, come dire, giuste per il mio modo di pensare e anche per quello che auspico possa diventare alla società di oggi. Le donne e gli uomini in piazza in questi giorni per chiedere giustizia rispetto alla violenza sulle donne rendono questo film drammaticamente attuale come lo era nel 1979 quando Barbara l'ha scritto. Quindi poco è cambiato ed è importante che ci si faccia sentire in questo momento. Posso chiudere perché sono veramente contro il femminismo piagnone. ecco, assolutamente, le donne, cioè, una delle cose che era proibita sempre alle donne era ridere, ecco, e questo c'è, questo c'è e questo ci teniamo moltissimo. Benissimo, domande? Né piagnone né antagonista col maschio che deve scomparire perché non è realistico ed è anche stupido. Mani alzate? No, nessuno ha domande, prego. Io ne ho visto. Eccola. Non siamo timidi, eh? Nome e cognome. Buongiorno, Carlo D'Acquisto, Cinecittà News. Vorrei chiedere al regista Gasman come è stato lavorare con l'attrice protagonista, che tipo di direzione le ha dato e che tipo di rapporto c'è stato poi sul set con Gasman. Grazie. Allora, lavorare con Beneta Porcaroli è stato divertentissimo perché lei è un'attrice piena di talento, è una persona molto intelligente, è mentalmente velocissima, è stato davvero un piacere. ho imparato moltissimo da lei, perché lei è giovane ma ha fatto tanti più film di quanti ne ho fatto io, conosce meglio di quanto conosco io la macchina del cinema, la macchina delle emozioni, mi ha insegnato moltissimo. Abbiamo lavorato, siccome il personaggio era così complesso e il film così pesante per una giovane attrice, perché lei c'è dalla prima all'ultima scena. Io fra l'altro ero molto impaurito del peso fisico di questa prestazione che lei doveva fare, perché comunque la buttavo nelle spine, la buttavo nel fiume. In acqua. Ma ha fatto, diciamo, era chiamata a svolgere una prestazione fisica molto faticosa e questa cosa a me all'inizio mi preoccupava. E poi anche il carico di informazioni, di emozioni che doveva portarsi sulle spalle, perché lei insieme ad Alessandro porta sulle spalle tutto il film, che non è un film dalle tematiche neanche così leggerine. Quello che ci siamo detti il primo giorno, quello che le ho detto il primo giorno, le ho detto, Benetta, facciamo così, questo film lo facciamo come una partita a tennis, punto dopo punto. Cioè non pensiamo a tutto il percorso, anche perché Benetta è così veloce mentalmente che molto spesso quando io le parlavo con dei pipponi d'autore, cioè lei mi diceva, sì Paolo, però stringi, stringi, cioè qual è il punto poi? Però devo dire che è stato un metodo che ha dato i suoi frutti, perché abbiamo parlato poco e agito tantissimo, giorno dopo giorno, punto dopo punto, e anche grazie a un sacco di proposte che lei mi ha fatto, di proposte fisiche, di proposte attoriali, e poi comunque lei ha un talento straordinario, questo è il punto di partenza, che lei è un'attrice che ha un grandissimo talento. E sente. Fabio Fersetti. Fabio Fersetti, buongiorno. Io scopro adesso che il libro di Barbara Averti è addirittura del 79, e mi chiedevo, volevo sapere qualcosa sulla storia produttiva del film, immagino che sia un... Amedeo sono qua. Che sia... Non lo so, forse avete cominciato a pensare a fare un film da questo libro da tanto tempo, o no, perché è verissimo quello che dice Gasmar, che il film esce con un tempiccio, esce, lo abbiamo visto, che sembra girato ieri per vederlo oggi, è impressionante. Però è anche vero che tutto questo... Io, come dire, è un film che aspettavo da molto, avrei voluto vederlo ancora prima. Mi chiedevo se avete tentato altre volte di portare sullo schermo questa volta, o avete aspettato il momento giusto, la congiuntura produttiva. Il regista giusto, a cui io non avrei mai pensato, avendo visto i suoi film precedenti, e che invece, appunto, poi ha fatto molto, molto bene questo strano Vangelo. Grazie. Sì, allora... Forse è una domanda da fare al produttore, Paolo. A tutti, sì, comunque anche ai produttori, certo. C'è Pagani? Sì, possiamo portare il microfono, per favore? Grazie. Grazie. Ecco. Grazie. Dunque, le domande che pone Fersetti sono interessanti. Prima cosa, dimostrano che 50 anni sono passati in vano, purtroppo. Cioè, il problema che esisteva nel 79 esiste, e tutt'oggi ci sono le dimostrazioni, finalmente, diciamo, di rabbia evidente. In secondo luogo è che il fatto che non sia successo in nulla in questi 50 anni giustifica anche il fatto che è stato difficile montarlo. Però è stato velocissimo il momento in cui ho incontrato Nicola Giuliana e gli ho proposto questa storia. Cinque minuti. Ho detto, ok, fammelo leggere, mi piace, facciamola. Chi sarà la ragazza? Te lo siamo detti in tre secondi. Benedetta. Chi sarà lui? Alessandro. La cosa è stata molto veloce, perché era naturale che fossero loro. Poi, sul risultato sta poi, però, noi siamo contenti che finalmente sia avvenuto. La cosa più grave è che non sia successo nulla in questi 50 anni. Il regista, ma è chiaro, perché io avevo già fatto con Paolo altri due film, tutti e due ben riusciti, il secondo anche con Nicola. Paolo ha una tale ironia dentro, fondamentale, direi quasi sarda, che giustificava il ruolo di questa protagonista femmina, di questa protagonista giovinetta, di questa protagonista che non vuole sottostare delle regole inutili, stupide, e che vuole cercare nella fantasia e nell'avventura quello che sarà il suo futuro, nella cultura, nell'apprendere, nel voler sapere. E Paolo era perfetto. Poi l'ambientazione sarda, ipernaturalmente, perché dove altro avremmo potuto farlo. Paolo non voleva fare né i cammelli, né le palme, né le tuniche d'epoca, né tutto quello che è la rappresentazione ormai stantia dell'epoca. E allora dove c'è l'antichità e la modernità allo stesso tempo? Tra i nuraghi, tra i pastori. Nazareth è costruita con delle tende, non neanche tende, con delle capanne di frasche, che sono quelle che adoperno i pastori regolarmente. E come avessi voluto fare questo gioco di trasposizione del tempo antico nel moderno, nel moderno nell'antico. Penso che sia riuscito. Assolutamente, aggiungo un altro particolare. Posso aggiungere una cosa? Certo, Paolo. No, no, riguardo alla sua progettiva. Molto più interessante quello che dici tu. Prego. È vero che dopo l'incontro con Nicola Giuliano tutto è andato più veloce, è arrivata Sky, che ringrazio, che ci ha dato tutta la libertà e tutto il sostegno di cui questo film aveva bisogno. Però questo in realtà doveva essere il mio primo film, perché quello che è successo è che, diciamo, però nel 2009, quindi più di dieci anni fa, io mostrai a Barbara D'Amedeo il mio corto L'Arbitro, che è un corto che tanti hanno visto, che ha avuto molta fortuna nei festival ai Davide, eccetera. Barbara D'Amedeo videro nell'Arbitro il germe di un racconto biblico in bianco e nero con dei volti particolari, diciamo, pasoliniani, per capirci, e allora c'erano messi già dal 2009, avevamo già scritto la prima stesura, già forse avevamo fatto anche addirittura una domanda alla regione Sardegna, che testimonia che io prima di Giovanni Columbo, che fece sul re in Sardegna, pensavo a un Vangelo sardo. Lo dico, diciamo, con grande affetto e stima per un regista che ammiro e al quale mi sono ispirato. Dopodiché ci sono stati vari tentativi, ma abbastanza blandi, di portare avanti questo film, e poi abbiamo fatto l'Arbitro, poi ne abbiamo fatto un altro e gli anni passano in fretta, però questo doveva essere il mio primo film. Sì, 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 sì. Diciamo lì. Scusate, cerchiamo di, ecco, così almeno tutta la sale. No, diciamo che l'incontro con Nicola ha velocizzato tutto il processo produttivo. Sì, esattamente questa è la verità dei fatti. Nicola con Sky, e ad un certo punto la cosa è maturata in brevissimo tempo. La velocizzazione, vi ringrazio molto, ma la velocizzazione è dovuta al fatto che abbiamo trovato gli interlocutori che hanno immediatamente, cioè nel senso che noi siamo dei produttori indipendenti, ci innamoriamo di una storia, quando la leggiamo cominciamo a vederla, quando quello che vediamo ci piace, pensiamo, facciamoci un film. Poi dobbiamo parlare con qualcuno che ci aiuti a fare questo. Devo dire che... Un allineamento di astri. Sì, però abbiamo trovato gli interlocutori che hanno immediatamente letto la sceneggiatura, più volte il romanzo, che mi sembra un... non lo fanno tutti, e hanno immediatamente cominciato a parlare del progetto in termini molto propositivi, molto fattivi, e questo ha velocizzato le cose. Vi ringrazio della stimma, ma abbiamo trovato degli interlocutori che ci hanno permesso di fare il film, che appunto ringraziamo, che è Sky che sono qui. Aspetto, grazie. C'è un'altra domanda? C'è la prenotata? Sky che deve dire qualcosa. Ripasso il microfono? No, no. Salve, Francesca Angelieri. Volevo fare due domande alla signora Alberti. Lei prima ha fatto riferimento al femminismo piagnone e l'ha fatto subito in relazione ai riferimenti di ieri. Volevo chiederle se un po' la piazza di ieri le ha dato l'effetto del femminismo piagnone e che cos'è per lei. Finisco, poi così ripasso il microfono che vedo che è gettonatissimo. E poi volevo chiederle la sua Maria, da 79 a oggi, se riscrivendo la sceneggiatura ci ha messo mano, è un po' cambiata? Assolutamente no. È sempre una Maria che si ribella. No, voglio dire, ieri non era affatto il femminismo piagnone, era il femminismo che protesta giustamente, che protesta giustamente soprattutto perché ci stanno intontendo di chiacchiere a noi donne, siamo protagonisti assolute, cioè se viene un marziano e viene in Italia e dice ma la donna è tutto, perché si parla solo di donne, la donna vende, la donna sta sulla copertina dei giornali, dopodiché ci ammazzano un giorno sì e un giorno no e non succede assolutamente nulla. Questa strage di donne che viene dall'81, da quando fu eliminata, cioè questo è il fatto sul delitto d'onore per cui padre, sorella, fratello, marito avevano potere di vita e di morte sulla donna, la cosa è rimasta praticamente uguale perché un giorno sì e un giorno no vengono ammazzate le donne, quindi la piazza era assolutamente legittima, però guarda caso alla piazza poi fa parallelamente alla piazza viene indetta una riunione in senato per decidere di fare qualcosa per le donne e sono presenti 17 persone, questa è la realtà, chiacchiere e poi nulla, quindi purtroppo questo romanzo e questo film sono attualissimi perché sulla situazione delle donne abbiamo avuto soltanto chiacchiere in un paese che si sta estinguendo in cui abbiamo cinque vecchi per ogni bambino, ancora questa grande rivoluzione che è stata il lavoro delle donne, i figli rimangono una questione che riguarda soltanto le donne, quindi ecco e parliamo di un femminismo non solo piagnone ma inconcludente, assolutamente inconcludente, non sono state capaci neanche di usare l'arma politica per eccellenza che è lo sciopero, hanno addirittura fatto degli scioperi a vuoto, non si sciopera per la dignità delle donne, si sciopera per avere gli asili, per avere delle cose concrete, lo sciopero è un'arma politica che è stata calpestata da questo femminismo non solo piagnone ma anche inconcludente. Quindi considero che è un gesto importante, in assoluta comunione con i maschi che non li vogliamo eliminare, li vogliamo come Maria e Giuseppe stare insieme, creare insieme. Io anche per alleggerire volevo dire prima è stata citata la Porcaroli che è stata una compagna di viaggio, è una protagonista straordinaria e sono d'accordo con Paolo sul fatto di dire che è Maria ma soprattutto che è una grande professionista e lui ha detto c'è anche faticato molto fisicamente, io sono d'accordo però tu hai anche messo un uomo di mezza età in un fiume per cinque giorni e anche avere contatti con asini pericolosi per alcune, quindi voglio dire anche va bene il femminismo però chi è stato maltrattato sono stato io in questa grazie, grazie, questa era una sottolineatura da fare, c'è una domanda, abbiamo cinque minuti. Salve Bianconi, Giulio Bianconi del Tempo, volevo chiedere a Alessandro Gasman quando prima dicevi che Giuseppe è riconoscibile nella società di oggi quanto invece ti riconosci tu in questo Giuseppe e se però queste e anche se queste donne così forti che cercano giustamente libertà mettono in crisi però un uomo anche, grazie. No, personalmente non mi mettono in crisi per niente, mi piacciono moltissimo, mi interessano, vorrei parlarci, ci parlo, vivo con una donna così quindi sono molto fortunato in questo senso, queste Marie sono presenti ma anche questi Giuseppe sono presenti, io mi ci metto ad esempio nel senso che sono sempre stato, ma non lo dico perché stiamo qui parlando di questo film che parla di una storia femminile ma io veramente ritengo le donne superiori agli uomini in tantissime cose, mio padre anche per scherzare diceva sempre che se il mondo fosse stato governato dalle donne probabilmente ci troveremmo in condizioni migliori oggi se gli uomini fossero stati relegati proprio per la loro caratteristica di sesso forte nel senso più atti, più adatti a portare cose pesanti o a intrattenere in maniera ludica la vita delle donne che ci governano, sarebbe stata una società migliore. Come sappiamo è andata in maniera diversa ma siamo sempre a tempo a cambiare questa tendenza. Certo, il tempo c'è sempre. Una domanda breve. E comunque scusate vorrei solo aggiungere che è vero che i maschi sono sconcertati però è ora che si ripigliano, ecco. Un'ultima domanda che prevede una risposta breve, altrimenti dirò io a Paolo una cosa e concludiamo poi questa conferenza. Allora Paolo, dai nostri dialoghi di ieri, tra l'altro veramente ho trovato una persona adorabile, amorevole. Volevo dirti la scelta di farlo tutto in Sardegna, indipendentemente poi dalle volontà della produzione. Credo che fosse una tua idea fin da subito e soprattutto io ho trovato veramente, anzi direi filologico, il fatto che il resto della popolazione, cioè il villaggio, il popolo di Nazareth, parli in sardo. Questa è una cosa che volevo chiederti. Sì, allora l'idea di ambientare il film in Sardegna, di trovare la nostra matera, in riferimento al Vangelo secondo Matteo di Pasolini, era alla base del progetto. Il progetto partiva da lì, non è mai stata messa in discussione quest'idea. Noi abbiamo cercato di, più che di ricostruire l'antichità, di evocare il mondo antico e per evocare il mondo antico avevamo a disposizione un'arma straordinaria che è la Sardegna, con il suo patrimonio archeologico, antropologico e anche il linguistico. Anche l'idea del sardo è un'idea per cui gli attori che parlano sardo si portano dietro un mondo, un modo di muoversi, una gestualità e delle radici proprio fisiche che sono molto più legate all'antichità di quanto io avrei ottenuto recitando il film in aramaico antico. Se avessi ottenuto, adesso facciamo il film in aramaico antico, quel modo veramente di muoversi, di muovere gli occhi, di muovere le mani che hanno per esempio le comari alla fontana, che sono le pettegole del film, sono il coro greco, difficilmente avrei ottenuto quella spontaneità e anche quel senso di ancestrale, di antico che io trovo nella Sardegna archeologica ma anche nella Sardegna dal punto di vista proprio antropologico e umano. Questa cosa penso che sia un elemento molto forte del film. Questo film secondo me dà veramente la possibilità di avere mille aggettivi per definirlo. Io l'ho definito coraggioso e sottolino quello che penso. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Angelo Secondaria. Paolo Zucchi. Grazie. Grazie.